Una grande concentrazione nell'eseguire in maniera minuziosa le procedure di sanificazione previste, ma con la preoccupazione negli occhi e in attesa che il telefono squilli. Pronto? Croce rossa Fano, desidera? Sono loro, gli uomini e le donne, che ogni giorno si dedicano alle attività socioassistenziali e di dialisi. Persone pronte a partire a bordo di un'auto o di un'ambulanza per portare farmaci nelle case di chi lo richiede e per trasportare persone potenzialmente contagiate dal Covid-19. E ci stiamo dirigendo nella sede della Croce rossa di Fano, perché oggi vogliamo farvi conoscere alcuni degli eroi che si occupano anche dell'emergenza coronavirus. Noi abbiamo il discorso dei trasporti, ma sono trasporti quelli programmati di routine e altri trasporti che ci vengono dati per persone che sono dimesse e che vengono mandate a casa, quindi ci sono dimissioni di persone che non sono più contagiate. Qualcuna è anche positiva, però le disposizioni che ci vengono date sono persone anche asintomatiche. Gli operatori in ospedale fanno la loro parte, ne fanno una gran parte, sono veramente eccezionali. Noi cerchiamo da fuori di dare una mano in quel che possiamo dare per alleviare le sofferenze di chi in questo momento è isolato, non vede le famiglie. Ci sono molti anziani soli che prima contavano sui figli per avere le medicine, per avere una parola. A volte si sta anche solo al telefono per parlare con loro. Oltre alle tante difficoltà a cui devono far fronte in questa delicata fase sanitaria, si aggiunge anche quella di non avere mezzi sufficienti e idonei a loro disposizione. Così, per continuare ad aiutare la popolazione, il Comitato Fanese della Croce Rossa ha pubblicato su Facebook tutte le indicazioni per ricevere supporti e donazioni. Purtroppo i mezzi non ci bastano, poi l'altro giorno purtroppo una macchina ci si è rotta, quindi siamo a meno di una macchina, non riusciamo comunque sia a seguire tutto quanto le richieste delle persone che hanno bisogno di spesa, che hanno bisogno di medicinali. E avremo bisogno anche di una macchina per pulire i mezzi, per disinfettarla ad ozono. Mezzi mancanti, ma anche emozioni da gestire. Insieme a Francesca, tutti gli operatori, di cui 8 dipendenti e 110 volontari, sono continuamente esposti al rischio di contrarre il virus, ma questo non li fermerà dall'essere sempre in prima linea per aiutare chi si trova in difficoltà. Parliamo di passare questo brutto momento, andiamo avanti per la cittadinanza, per la gente e cerchiamo di fare il meglio. Le nostre famiglie sicuramente sono anche preoccupate, come tutti, come tutte le famiglie. È una situazione un po' delicata per tutti, quindi cerchiamo che ci desse una mano anche il buon Dio, che ci aiutasse un po' a tutti e poi andiamo avanti.